Il machine learning è un settore pionieristico nel mondo del packaging alimentare. Al momento viene usato praticamente solo per il controllo con i sistemi di visione e quindi un controllo qualitativo del tipo di prodotto, confrontandolo con un parametro di riferimento, un prodotto ideale, diciamo. E in questo settore si sono sviluppati alcuni sistemi che permettono all'intelligenza artificiale e di autoapprendere quale sia il prodotto giusto e migliore. Nella robotica anche si inizia a vedere qualcosa con i bracci antropomorfi che sono in grado di apprendere il percorso migliore e più efficiente per ottenere il risultato. Il resto del mondo del packaging però è ancora preda della teoria del caos perché tanti elementi sono imprevedibili e difficilmente misurabili con metodi matematici. Di conseguenza è possibile ipotizzare in un futuro che si possa ottenere qualche risultato in questo settore incrociando i dati di tanti sensori e utilizzando i big data per riuscire a identificare degli elementi scatenanti che provocano incepamenti nelle macchine o cause di un abbassamento di qualità. Ma si tratta di un tipo di tecnologia che al momento ha ancora bisogno di essere sviluppata e sicuramente nel prossimo futuro vedremo molte nuove iniziative in questo senso.